Francesco Masciari, 52 anni, avvocato del Furo di Catanzaro, è formalmente indagato nell'inchiesta che ha portato all'arresto, tra gli altri, del consigliere regionale Nazareno Salerno. Le investigazioni condotte sul campo dal ROS e dalla Guardia di Finanza, spiega in esclusiva il Vibonese.it, hanno risucchiato il professionista con l'accusa di rivelazione di segreti d'ufficio in concorso con Ortenzio Marano, 43 anni, di Belmonte Calabro, quest'ultimo arrestato nel contesto della stessa indagine. L'avvocato Masciari avrebbe svelato a Marano, il 16 novembre del 2016, di essere indagato dalla DDA di Catanzaro, unitamente a Nazareno Salerno e a Pasqualino Ruberto, ex presidente della Fondazione Calabria Etica. Gli inquirenti indagano per accertare eventuali ulteriori responsabilità anche da parte di referenti istituzionali. Sul fronte delle esigenze cautelari, d'altro canto, il Tribunale del Riesame si è ieri pronunciato sulla posizione di Vincenzo Spasari, 56 anni, di Nicotera, che lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. Accusato di abuso d'ufficio, minaccia e distorsione aggravata dalle modalità mafiose, Spasari si sarebbe speso per la campagna elettorale di Nazareno Salerno e per sistemare suo figlio e il cognato del boss Luigi Mancuso alla regione, intimidendo il dirigente del Dipartimento regionale del lavoro, Bruno Calvetta. Torna invece in libertà Claudio Isola, già consigliere comunale di Vibo. Il Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e messa a suo carico. Isola è indagato per abuso d'ufficio e distorsione aggravata. Tiziana Bagnato per la CNews24.